Eccoci qua, è la serata del bomber, è la serata di Federico Dionisi, buonasera a tutti, ciao Federico, buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Decisivo contro Lentella, straordinario in questo girone di andata, in questa prima fase di girone di ritorno, naturalmente con lui parleremo di Frosinone, di futuro, del passato, di tutto. Buonasera e bentornato a Rolando Mignini, ciao Rolando, buonasera. Buonasera. È la serata dei grandi bomber, non solo Federico Dionisi, ma anche l'amico Paolino Santarelli. Ciao Paolo, buonasera, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Michela, bentornata. Buonasera e bentornati, tanti argomenti questa sera. Tanti, siamo anche tanti noi qua dentro. Sono tanti, tanti bambini, un folto pubblico e tanti sono naturalmente anche messaggi, i vostri messaggi che state inviando da casa, che vi ricordo potete inviare durante tutto l'arco della puntata e vi ricordo anche come inviarli, sulle nostre pagine social, su Facebook, sulla pagina Kickoff, oppure su Instagram, sulla pagina Kickoff Frosinone, oppure inviando un messaggio su WhatsApp al numero 391 46 52 782. Eccoci qua, siamo tantissimi, la nostra piazza è strapiena, anche i vicoli della piazza sono strapieni, praticamente c'è il tutto esaurito. Federico Dionisi ha richiamato il popolo di Frosinone nei nostri studi e di questo naturalmente siamo molto contenti. Federico, quanto è stata importante questa vittoria? Anche alla luce dei risultati che sono arrivati nel weekend, ha perso il Chievo, ha perso il Pordenone, insomma abbiamo fatto un bel salto. Sì, diciamo che anche visto i risultati è stato un risultato importante, però al di là degli altri risultati diciamo che dovevamo iniziare bene questo giro nel ritorno e lo stiamo facendo, quindi siamo ben contenti del percorso nostro senza guardare troppo gli altri. Senti, siamo brutti e cattivi come dice Alessandro Nesta che nel post partita ha detto non siamo bellissimi, però siamo vincenti e quello è l'importante. Ti piace questo Frosinone oppure manca qualcosina secondo te Federico? Ma secondo me proviamo a giocare, proviamo a giocare anche in un primo tempo che magari gli avversari sono più freschi, corrono e magari ci chiudono meglio gli spazi, quindi la caratteristica che magari non siamo belli è anche dovuta che tante squadre contro questo Frosinone comunque si chiudono bene, corrono tanto e soprattutto all'inizio si può trovare qualche difficoltà. Siamo stati bravi nel continuare a giocare, nel non perdere la pazienza e poi sappiamo che possiamo trovare il gol in tutte le partite, quindi possiamo essere determinanti. Trovato il gol credo che abbiamo avuto più di qualche occasione per fare il secondo gol, quindi secondo me dobbiamo migliorare un po' su quello, di continuare e comunque essere propositivi anche quando si va in vantaggio per cercare magari il secondo gol che ci può dare quel pizzico di tranquillità di portare a casa prima la partita. Il gol sabato l'hai trovato tu con una giocata straordinaria che abbiamo già rivisto nella nostra sigla, nella nostra copertina, rivedremo naturalmente nel corso della puntata, è tra i top gol realizzati con la maglia del Frosinone Federico questo? Sì, diciamo che gli ultimi due gol sono stati entrambi molto belli, sono contento perché comunque sono gol importanti, gol pesanti. Al primo quali metti? Pordenone o Entella? Al primo posto? Forse quello di Entella perché comunque è stato, anche se quello di Pordenone diciamo che non è proprio la mia specialità, quello di calcio e punizione, quindi ci sono molto affezionato per quello perché non sono un tiratore di punizione. E magari lo potrei rinfacciare anche a Ciano quando capita una punizione dal limite, magari dici che l'altra volta ho fatto gol, te la vuoi giocare bene a questo punto. Potrei tirare qualche punizione più magari, però ci tengo anche a sottolineare che non è solo Dionisi, perché comunque se guardiamo anche la partita di Ascoli, la risolta Nicola, Citro, quindi siamo veramente un reparto offensivo che ha qualità e lo dimostra partita dopo partita. Quindi ci tengo a precisare questo, c'è Dionisi, c'è Ciano, c'è Ardemagni, c'è Citro, c'è Novakovic, quindi abbiamo gli attaccanti per poter far bene in tutto il campionato. Assolutamente. Rolando, ci prendiamo i tre punti alla grande, che mi vuoi dire? Fammi dare una notizia. Vabbè, io organizzo la scaletta. Allora, domani mattina, salvo clamorose sorprese, ma non dovrebbero starci, Longo rescinderà col Frosinone e andrà a allenare il Torino. Ah, quindi viene qui a Frosinone a firmare. Certo, si deve incontrare col Presidente. Luogo e ora, Rolando, non lo sa. Non si possono dire. Va bene, però dai, diamo un in bocca al lupo anche a Moreno Longo, perché, insomma, è l'ex tecnico del Frosinone, quindi grande chance per lui. Di Torino, primavera del Torino, allenare il Torino, è chiaro. Assolutamente. Che mi dici? Io guarda... Brutti e vincenti, no? No, guarda, basta sentire le parole di Nesta. Sì. E io le prendo, faccio copia e incolla. Perché ha detto esattamente... Nesta, ormai l'abbiamo detto più volte, è una gran bella persona perché lui, rispetto a tanti allenatori che abbiamo avuto noi, come avversari, che mascherano, trovano sempre le parole di circostanza, per carità, ha un loro diritto. Ognuno parla e dice quello che ritiene giusto che sia. A volte tante cose si portano agli spogliatoi, si chiarisce. Invece, per quello che è giusto, Nesta, mi piace perché anche sabato, dopo la partita, ha detto, sentite, come voglio dire, non continuiamo a parlare di questo Frosinone che soffre, perché a parte sabato che aveva diritto a farne tre di gol, non uno, poi lo andremo a vedere, ma soprattutto quando lui ha detto questa è una squadra fatta così, l'ha detto anche Federico adesso, è una squadra che ha una grande capacità, una grande qualità e che ha la forza anche di risolvere le partite giocando male, soffrendo gli avversari, non trovando magari le giuste coordinate, perché gli avversari sono anche bravi a leggerci e a chiuderci. Le ultimissime partite ce lo insegnano, adesso su Maiello è guerra e quindi è un po' più complicato, Rodin che non ha fatto il massimo della sua partita, ma è sempre un giocatore di qualità, quindi è arrivato Federico e abbiamo risolto la partita. È andata bene così, per il momento ci accontentiamo così. Paolo, li facevi questi gol tu? Eh? Li facevi questi gol? Di destra no. Di destra no, con il sinistro magari. Con il sinistro. Qualcosina abbiamo visto, io poi chiedo al pubblico perché io non c'ero in quegli anni. No, di sinistro, vabbè. Vabbè, ma Simonetta è di parte, non va. Simonetta mi dice sì. No, non è vero, non è di parte. Vabbè, tra poco chiediamo la conferma a Simonetta. Per Frosinone, io vedo una cosa sola. Vai. Che noi non si salta l'uomo e l'attaccanti trovano difficoltà a liberarsi dei difensori. Ok. Ci deve stare un uomo che salta così a difesa, si allarga un po'. Diventa sempre complicato sbloccare il risultato per questo. L'uomo, tutte le squadre ce l'hanno e noi non ce l'abbiamo. E domandaglielo allora, Paolo, perché non salta l'uomo? No, lui, lui è l'attaccante. Ah, ok, tu dici gli esterni magari. Gli esterni devono fare più gioco, devono saltare l'uomo magari. Se salti l'uomo, le maglie della difesa si allargono. Però comunque... È più di facile per lì un'attaccante. Certo, è anche vero, però, come ha detto Federico, che le squadre si chiudono molto quando vengono a giocare. Appunto serve un uomo che debba superare la numerica. L'ho complicato perché ai tempi tuoi non c'era il fallo tattico. Oggi è tosto. Oggi c'è quella materia oscura che si chiama fallo tattico. Non ci stava sempre. Vi menavate bene pure voi. Assolutamente. Senti, Federico, Rolando parlava di Nesta. Com'è Alessandro Nesta? Che allenatore è dallo spogliatoio, dal campo? No, è un ragazzo che si è messo comunque, si è calato nella realtà di Frosinone al 100%. Lo dimostrano i fatti. Dopo un avvio dove abbiamo provato a giocare magari anche con un modulo diverso. Poi ha capito le difficoltà del gruppo e questa è la sua caratteristica principale. che comunque ha saputo cambiare per il bene della squadra. Quindi siamo contenti del mister. Siamo comunque viaggiando tutti uniti verso un obiettivo importante. Quindi siamo contentissimi e continueremo così. Senti, da ex difensore, da ex grandissimo difensore, vi aiuta magari a voi attaccanti nei difensori? Qualche trucchetto del mestiere? Riesce a darvi una mano da ex giocatore, insomma da ex difensore? Sicuramente cerca di darci i più consigli possibili. Lui è stato sicuramente uno dei migliori nel suo ruolo. Quindi ogni tanto cerca di dare quel pizzico in più che ti può dare solamente chi ha fatto una carriera importante come la sua. Senti, ti faccio due domande. Una bella e poi quella brutta. Quella bella è che Nesta parla sempre benissimo di te. Dice Federico Denizio, è vero, quindi mi piace. Mi piace non solo come giocatore, ma mi piace come ragazzo, come persona, come uomo. C'è un bel rapporto tra di voi, Federico? Sì, abbiamo avuto delle problematiche, diciamo, delle problematiche anche non dovute magari esclusivamente tra lui. Ma è stato un insieme di cose. Siamo partiti dalla fascetta di Capitano, un po' discussa, e quindi è normale avere attriti. Poi da persone sincere, si chiarisce. Una volta che si è chiarito, diciamo che poi l'obiettivo principale rimane quello del Frosinone. Quindi si mettono da parte le cose personali e si affronta nel migliore dei modi la stagione. Quello che abbiamo fatto da persone intelligenti, io e il mister, è stato proprio questo. chiarirsi, guardarsi negli occhi e dirsi quello che ci si doveva dire all'interno di uno spogliatoio senza troppo clamore e poi camminare e correre insieme verso una direzione. Assolutamente. Perché la concorrenza è imbicidiale. È certo. Frosinone, ha detto bene lui, è una squadra in vista, l'aspettano, si chiudono, ma soprattutto Frosinone è una squadra apprezzata e temuta. e quando giocano contro il Frosinone sanno che comunque se togli quelle due o tre squadre le altre hanno tutto da guadagnare e niente da perdere. Perché se hanno perso, hanno perso col Frosinone. E quindi diventa complicato. E poi lo stirpe è uno stadio che è riempito di complimenti, ma anche sul campo si vede che è un campo che ti fa giocare. Anche le squadre versarie, non so se tu sei d'accordo in questo, è un campo diverso dal Matusa. Cioè lì il Matusa era un campo di quelli... Credo la differenza sostanziale l'abbiamo vista in Serie A, Rolando. Insomma, al Matusa ce la giocavamo sempre. Abbiamo fatto 33 punti. E quindi questo è il discorso che anche lo stadio di Frosinone è uno stadio che è talmente ospitale e ricettivo che anche le squadre avversarie che hanno giocatori con i piedi buoni giocano. E come si dice in gioco, ci devi correre a presto, ci devi trovare le contromisure. Però noi li abbiamo i nostri. Ce l'abbiamo. Adesso il Frosinone è forte perché Ankin è stato in modo fantastico. Basta vedere le prestazioni di Tabanelli. Sì. Cioè, e allora è una squadra che che ha trovato... È stato un mercato ma veramente, veramente fatto bene. Per il momento molto oculato. Avete trovato il feeling giusto con lo stirpe, Federico? Perché all'inizio si parlava di quest'anima che mancava ancora, il calore, i rifosi, bla bla bla. Come siamo messi? No, sicuramente io ho avuto la fortuna di... Dico fortuna perché comunque giocare al Matusa era un effetto molto particolare. La differenza è che comunque come diceva anche Rolando giocare allo stirpe sembra quasi di giocare a un piccolo teatro. Ok. Quindi è bello e dà anche modo agli altri di mettersi in mostra in una bella cornice. Invece quando venivano al Matusa erano un po' più timorosi perché comunque diciamo che noi la mettevamo molto sullo spirito battagliero e questo metteva molto in difficoltà squadre anche di Serie A come è stato testimoniato. Sicuramente adesso allo stirpe noi abbiamo trovato abbiamo ritrovato quella forza che è del Frosinone quando giocava in casa che comunque venire a Frosinone a giocare diventa difficile. Anche siamo riusciti a ricreare lo stesso ambiente anche allo stirpe quindi siamo ben contenti di questo soprattutto per i nostri tifosi perché comunque per noi giocare davanti ai nostri tifosi diventa sempre uno stimolo in più. Senti a proposito dei tifosi Federico ma ti sei chiesto perché sei il più bersagliato quasi del gruppo perché insomma tanti ti adorano basta vedere quanti siamo dentro questi studi questa sera però spesso sei quello che insomma viene stimolato maggiormente dal pubblico infatti mi ricordo un paio di esultanze delle tue come a dire state calmi state tranquilli che idea ti sei fatto? Cioè nel senso sono il leader mi prendo gli applausi e mi prendo i fischi ci sta. da giocatore tra virgolette importante mi prendo benissimo anche i fischi o le critiche o quello che comunque è merito per la prestazione quando io mi sono arrabbiato non era un discorso strettamente personale ma era più un discorso di squadra cioè che io il mio lamento era quasi non abbandonateci nel momento del bisogno non a Dionisi se Dionisi stoppa a dieci palloni male e il tifoso vuole fischiare è giusto che lo faccia però il mio dispiacere è più che altro a livello di squadra ok il mucugnare nel momento in cui magari si pareggiava una partita sullo 0-0 con il pescocchiera non mi ricordo con l'empoli in casa e ci sta passati dieci minuti calma diamo del tempo anche alla squadra di esprimersi non mettiamogli subito magari una croce sopra o anche con tanti ragazzi sono stati massacrati negli anni magari anche molto precocemente ok poi i fischi ci stanno poi diventa più difficile anche sì anche perché poi ci sono ragazzi che magari non reagiscono ma si deprimono magari alle critiche o quant'altro quindi penso che sia importante avere l'appoggio dei tifosi come quello che comunque dà la curva noi dalla curva ci sentiamo tra virgolette protetti ok per questo c'è sempre stato in sei anni che sono qui un rapporto splendido con la curva perché nel bene o nel male noi sapevamo che potevamo ci giravamo e loro erano lì ok e ce l'hanno dimostrato con i fatti abbiamo siamo retrocessi abbiamo perso partite clamorosamente eppure al novantesimo noi ci giravamo e loro erano lì a sostenerci a incitarci la prossima volta andrà meglio e questo spero che lo capisca l'intero stadio perché comunque noi io lo intendo così Frosinone io mi sono innamorato di Frosinone perché comunque già dalla società ma anche dai stessi tifosi è una grande famiglia e questo dobbiamo essere noi dobbiamo essere diversi dalle altre squadre è vero il calcio è uguale dappertutto però magari una piccola particolarità ci può essere e la nostra deve essere una grande famiglia nel bene e nel mal bene poi voglio chiedere a Paolo se lo fischiavano eh Paolo quando sbagliavo quando sbagliavi qualche tiro qualche stop lo fischiavano per me la tifoseria è quella che sta alla nord allora l'arte sono tutte occasionali perché io e Simonetta no lui è che sto alla tu sei alla sud no no in tribuna ah ok che succede là dopo dieci minuti cominci una rompiscata da lui a tutti quanti ok e pensaci tu là allora Paolo no è che c'era Simonetta sei fatto fermo perché se no devo far ammazzare io ok no perché niente non capisco sono quelli occasionali sono della provincia e vabbè che devi fare però fanno parte del contorno dello stadio è giusto che ci siano e ci siano e comunque vanno rispettate anche loro perché giustamente quando uno viene allo stadio è giusto che esprima il suo giudizio liberamente vai per chiudermi agganciarmi al discorso della parte finale che qua è tutta una famiglia infatti una sera ci fu un tifoso e mi ha fatto piacere che lo notò che disse mi fa piacere perché Rolando il giocatore li chiama per nome sì mi ricordo ma io non ho mai chiamato i giocatori per nome perché abbiamo parlato io e lui lui mi chiama Rolando io lo chiamo Federico ma perché è una cosa che mi viene spontanea cioè abituati loro hanno una loro vita privata rispetto a tantissime piazze dove anche nella vita privata i calciatori sono assillati qui da noi si vive veramente in una dimensione veramente a misura d'uomo ci chiamiamo per nome perché proprio come diceva lui la squadra di calcio e il coagulo di tutto ha una serie di fattori è chiaro che quando non vinci ci resti male si prende qualche fischio e non solo lui però questo fa parte del gioco del loro mestiere loro lo sanno in tutti i posti di lavoro quando uno sbaglia viene rimbrottato è così e quindi e quindi ce lo diremo così allora un po' di messaggi vai sì c'è Lassio che dice non voglio essere polemico ma se Mancosu la prende bene e la mette dentro oggi stavamo tutti arrabbiati però non l'ha presa bene è quella però aspetta la cosa fra virgolette incredibile visto che a noi ci fanno i gol quelli che non segnerano mai pensate che Mancosu aveva fatto l'ultima gol nella gara di andata sul calcio di rigore quando gli ho visto ciccare quella palla comunque non era mica facile da lì vi sembra c'è sempre Bardi in porta lì e c'è sempre Rolando che dallo schermo che è morito da tutto allora e questo è un altro fatto siete stati così capaci siamo stati perché siamo tutti di far fare gol a gente che non segna mai questa è un'altra caratteristica speriamo che non fanno gol quelli che segnano sempre allora almeno compensiamo così dai vai altro messaggio quello di Fiore che dice grande Federico sei il nostro trascinatore nel campo e nello spogliatoio comunque spero tu possa giocare fino a 40 anni ma penso anche tu possa essere troppo fino a 40 anni dai un'altri 6-7 anni seconda chance allenatore ti ci vede bene mazza allenatore della rischi adesso con il giallo in panchina allenatore della rischi facile 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 cioè facilissimo troppo facile altra Giuseppina dice che bella emozione è stata una bella partita ma soprattutto perché ha segnato Dionisi grande Federico io ci sono sempre allo stadio un saluto a Marcello dei fedelissimi forza Frosinone e poi ancora Marco sabato ho visto una squadra che gioca con grinta e coraggio possiamo andare in Serie A diretta io ci credo e ancora Elvison sabato andiamo a prenderci questi tre punti un abbraccio a tutti e poi Alessandro dice voglio vedere il Frosinone giocare così Federico che ne pensi? ecco qui la formazione con Ciano dietro le due punte Dionisi Ardemagni ecco parliamo un po' di questo riparto avanzato può cambiare qualcosa secondo te Federico con l'arrivo di una prima punta Ardemagni anche il tuo modo di giocare hai giocato una vita con Daniel Ciofani adesso ti ritrovi sei ritrovato a giocare con Ciano tutto il girone tutto il girone di andata è cambiato qualcosa nel tuo modo di giocare Federico? sicuramente le caratteristiche sono diverse e anche quello che magari chiede un mister rispetto a un altro può essere diverso quindi è normale che uno si modifica anno per anno in base a quello che richiede il mister e quello che richiede la squadra cioè il reparto offensivo giochi con uno o due attaccanti quello che stimola un po' di stuzzica questa cosa del tridente Federico da attaccante penso che il mister l'abbia anche già detto lui che comunque sia avremo bisogno di tutti in che modo poi sarà opportuno partita dopo partita valutarlo ci sarà il mister a farlo quindi noi mettiamo a disposizione già in allenamento proviamo magari anche più soluzioni quindi noi dobbiamo solamente farci trovare preparati pronti a qualsiasi tipo di soluzione che il mister ci intende offrire quindi siamo ben contenti io diciamo come oggi è il Frosinone la vedo durissima che giocano tutti e tre lui Camillo è il discorso di prima Rolando le cose vanno bene perché toccare anche perché tu hai i due esterni alti e i tre e i tre in mezzo che adesso non devi proprio toccare Rodin Maiello e Tabanelli cioè è pericolosissimo rischi di sbilanciarti in avanti in un modo terribile quindi però come diceva lui però c'è avere un'altra soluzione aiuta assolutamente gli ultimi cioè i minuti decisivi di una partita tu sì che li butti dentro tutti e tre e poi vediamo gli altri come sono bravi a reggerci Senti Federico guardi le pagelle tu sui giornali il giorno dopo ti arrabbi come No io in genere non leggo giornali non leggo cerco di leggere il meno possibile poi è normale te lo dicono poi ai tempi di oggi purtroppo le trovi dappertutto quindi è normale da tutte le parti ma io penso che sia giusto e legittimo comunque leggerle e dargli ma non nel giusto peso perché poi se uno fa bene o fa male già lo sa da solo ok già a fine partita lo sai già uno sa e si rende conto più o meno se è soddisfatto o non soddisfatto della sua prestazione quindi è abbastanza relativo però diciamo che poi i giornalisti sono giusti che fanno le pagelle voi mettete commentate è giusto e fa parte del gioco quindi è giusto prenderle secondo me con il giusto spirito e comunque guardare magari alla partita successiva con maggiore voglia di far bene allora vediamo le pagelle di Rolando sono curioso di vedere subito la reazione di Paolo perché se Rolando dice bianco Paolo dice nero se Rolando dice giallo Paolo dice verde sempre il contrario vediamo prima le pagelle guarda che bella grafica che c'ha Federico tipo il professore l'abbiamo messa alla lavagna vai 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 allora a Francesco c'ha sei perché in effetti io non li ho visto fare una parata una ha fatto una che era giocofermo però molto bella sì era giocofermo comunque è stata una prestazione della sua perché in effetti ha fatto molto il mieloso Boscaglia no tutto anche prima della partita si metteva ha detto noi speravamo quasi quasi meritavano di tornare a casa di tornare a casa con il punto signor Boscaglia minister con tutto il rispetto per carità lei all'andata si è portato via tre punti quando non ne meritava manco uno vabbè comunque allora Francesco sei punti poi a Nicolò sette perché Nicolò è un periodo che il cagnaccio è diventato il cagnaccio sta sempre lì sta sempre lì ha pure mezzo scassato il naso però lì non è colpa sua lo andremo a vedere tra l'altro ecco ti interrompo un attimo Rolando perché abbiamo un aggiornamento sulle condizioni di Marco Capuano mandiamo naturalmente un grande in bocca al lupo Cosinone l'immagine sul Michela cos'è il profilo il suo profilo Instagram scrive un piccolo incidente di percorso ma con la testa già pronta a tornare in campo con i miei compagni il più possibile forse leggermente più carino con un gestaccio per Brighè no sto scherzando sto scherzando purtroppo può succedere un grande abbraccio a Capuano da dove è partito anche questo comunque allora vi dicevo Nicolò sette e poi sei e mezzo a a Dariauto a Daria a Lorenzo Capuano sei perché poverino è dovuto uscire sì fatto un tempo sei anche a Crunchy Salvi sei e mezzo perché è quasi andato vicino anche a prendersi la vendetta sportiva della gara di andata ci avrebbe fatto enormemente piacere per lui se riusciva a segnare poi Rodin sei perché è la prima volta che l'ho visto giocare non male un po' sottotono un po' ombra chiamiamolo così per Maiello sei e mezzo perché comincia a prendere anche troppe botte Tabanelli sette perché è entrato alla grande nel nostro gruppo e vi assicuro vi assicuro che entrare in simbiosi con il gruppo storico del Frosinone è sempre complicato non perché loro è perché è un gruppo che è affiatatissimo a giocare e quando entra al nuovo è sempre un po' più è una voce che si sa in giro per l'Italia e ha diciamo un senso positivo e quindi per Tabanelli è stata una bella cosa questa di entrare il sette è meditato Beghetto sette perché anche anche sabato ha messo dentro una serie di bei palloni De Lì è entrato troppo tardi Camillo sette Federico Camillo sette hai premiato il palo che poi ha portato al gioco e tra l'altro ci siamo scordati a dire a quattordi sono quindici pali ti ricordi il palo di Mirabella che ha portato al direttore Salvini vabbè un po' ha fatto effetto perché abbiamo giocato col palo abbiamo il primato europeo dei pali però sabato abbiamo fatto la sponda sì ma se non si inventa lui quel non Euro goal quel mondial goal la sigla televisiva perché la palla gira bene quindi è proprio ovviamente al mister gli ho dato sette soprattutto anche perché mi è piaciuta molto e non sono mai banali le sue conferenze post gara quelle pregare e quelle post gara Paolo che mi dici? sei d'accordo? no dai non ci credo non puoi essere d'accordo vai vai io darei a Maiello come dice lui ha preso un sacco di botte non ha fatto mai una reazione non ha fatto niente e ci hanno dato il santo ragione sei e mezzo ma non posso prebiare le botte che piglia? no vabbè scusate e non fanno giocare è troppo sei e mezzo sei e mezzo sei e mezzo è troppo ok no no è poco ah è poco è poco io darei più sette a Maiello adesso stiamo da là Beghetto sei e mezzo Beghetto pure sette vabbè però insomma stasera vi siete ritrovati dai no io come ho parlato prima io voglio l'esterno ok che punta l'uomo che punta l'uomo non lo punta mai una volta che l'ha puntato è entrato dentro stava a fa gol non ce l'abbiamo però forse noi questo tipo di esterno magari Paganini in corsa io vedo che la squadra avversaria lo lascia sempre libero perché tanto lui calcia dai 10-20 metri sì però Paolone tu hai tre centrali calcia bene per carità però se punta più l'uomo noi faremo anche più gol ma lo sai che è difficile trovare l'occasione per puntare l'uomo perché tu con quei tre centrali che danno del tuo alla palla l'esterno deve già trovarsi molto alto è come se avesse saltato un uomo primi commenti stanno arrivando Rolando ti rileghi un paio Beghetto è troppo sette perché si scansa e crossa impaurito Beghetto sette è troppo mi dicono quindi oggi hai fatto va bene guardate a me mi piace tantissimo il contraddittorio cioè quando mi si dice che un giocatore non va votato in quel modo mi piace perché significa ragionare vedemi a lui che gli voglio un gran bene perché lui è l'anima del frusione gli ho messo due o tre volte cinque è vero è vero Federico è vero diceva cinque no perché quest'anno non stoppa una palla abbiamo registrazione cioè cose cose atroci guarda meno male c'è il dubbio che può confermare poi adesso ha un self control meraviglioso adesso è ti sei calmato negli anni Federico si crescia si è messo la testa a posto si crescia si è messo la testa a posto senti Rolando andiamo con la moviola dai allora poi chiediamo a Federico che rapporto ha con gli altri scusate un attimo allora prima prima di andare alla moviola vi voglio leggere una cosa perché questo è importante allora l'arbitro Massimi di Termoli ok al primo anno di Serie A di al primo anno di Serie B gli hanno fatto fare una partita di Serie A perché di solito questi ragazzi li si tastano si vede perché non poi dopo la Serie B si pensa a qualcuno di portare l'inà e andò ad arbitrare Sampdoria Cagliari una partita memorabile per Massimi infatti la Serie A non la vedrà più allora guardate cosa gli scrisse Edmondo Pinna perché io avevo anche gli altri giornali sulla sua direzione di Sampdoria Cagliari parte decisamente male il trentenne di Termoli Luca Massimi sezione aria di Termoli va bene avere personalità qualità indispensabile per un arbitro ma spesso il confine con la presunzione è labile e quando lo sorpassi finisci per fare brutte figure quindi un po' presuntuoso abbiamo allora io vi ho letto questo poi non vi porto la gazzetta comunque prese tra i 4 e i 5 in quella partita hai notato questo atteggiamento anche sabato è stata una direzione di gara pessima qua ovviamente Federico non deve fare Federico deve stare zitto adesso sto corso al mio allora è stata una bruttissima direzione di gara perché poi si sono terminato una serie di episodi per cui allora noi abbiamo detto il Frosinone ha fatto fatica il Frosinone ha fatto qua ma tre volte che è arrivato davanti alla porta clamorosi rigori non li dai e io dico quando segna il Frosinone vediamoli vediamoli Rolando dai vediamo con il primo episodio all'ottavo minuto allora qua c'è una bella azione offensiva Beghetto al volo Federico viene questo è l'esatto fallo che all'andata ci è costato di un rigore contro è la fotocopia del fallo allora qui abbiamo discusso ragionato anche con amici miei diciamo che di questo mestiere ci capiscono e questo è il rigore anche se apparentemente sembra che l'avversario arriva prima invece no perché la gamba la mette nettamente ad ostacolare Federico e questo è il rigore quindi è il primo rigore vi ricordo che all'andata all'intervento di Salvi identico a al tuo amico Crimi bravo è quello ecco vedete qui lui salta il piede di Federico è sotto quindi lui si prende la palla ma con i tacchi prende anche il collo del piede di Federico quindi questo è rigore vai secondo me ok poi adesso andiamo sul secondo episodio questo è un pallone che filtra Ciano davanti alla porta ha preso ormai l'anticipo e non riesce a fare gol viene anticipato guardate questa maglia di Ciano dove arriva ragazzi si è allungata di un metro e l'arbitro stava lì messo malissimo perché ripeto la sua questo è rigore questo guardate qui adesso lo vedremo anche da dietro la porta eccolo qui eccolo qua Camillo guardate quello gli ha tenuto la maglia fino alla fine proprio non l'ha mollato un attimo si perché Camillo era in netto vantaggio ecco guardate qui come lo stira bene guardate là tutta quella ombra gialla che arriva fino al giocatore è un altro metro di maglietta questo è clamoroso questo è clamoroso passiamo al terzo episodio vai vai andiamo il terzo episodio sempre nel primo tempo questo allora qua ci sta una scena quasi comica anche se mi dispiace perché allora adesso lo vedremo a rallentatore qui purtroppo Pellitzer commette tre allora ci sono tre rigori tre rigori nella stessa azione tre allora prima di tutto viene tirato viene tirato Capuano che nel piegarsi si prende la botta sul viso e questo vedete vedete la maglia di non ci vede più il numero si è portato tutto Pellitzer purtroppo nel tirarlo lo fa andare in avanti e si prende la botta sul viso di Nicolò e guardate uno due questa è palla a volo non è calcio ragazzi adesso lo vedremo meglio guardate Bacher uno due guardate quante volte gli rimbalza la palla nelle mani questi sono tre rigori tre rigori nella stessa azione Capuano mano sinistra mano destra adesso non so se Luca Versa che io ringrazio sempre perché mi monta meravigliosamente guardate qui quante volte la palla c'è anche un'immagine da dietro ma non c'è così basta ma non neanche ci sia bisogno sapete cosa ha indicato l'arbitro fallo di mano al Frosinone si punizione per loro ha indicato con le mani forse lui pensava che Nicolò nell'ascivolare l'aveva sferato la palla non so che cosa ha fischiato fallo di mano contro il Frosinone questi sono tre rigori ok vai prossimo episodio allora qua in gergo tecnico si dice arbitro in controllo ma scarico guardate com'è distante vabbè e Settembrini parla con Nesta il quale dice vabbè se tu sei convinto io sto guardate no adesso lo vedremo meglio perché ci sono i ralenti ok Massimi indica la punizione ma Settembrini era già ammonito infatti Boscaglia dopo tre minuti lo toglie ma certo che lo toglie ma io me lo aspettavo ho detto adesso lo toglie questo è un bel ceffone sulla parte alta sull'occhio di Brighetti che non se lo aspetta di Beghetto chiedo scusa questo era secondo giallo e vai a farti la doccia caro Settembrini ma questo doveva fare mezz'ora di partita la fatti 50.000 è una fattima scusami Paolo allora guardiamo l'ultimo episodio questo forse forse l'arbitro non lo ha valutato bene perché stava frontale forse allora tra l'altro è stata un po' comica anche la telecronaca che c'era sulla partita perché dice Ciano non fa nulla per rimanere in piedi non ho capito uno davanti alla porta che pensa a segnare allora questo è il cross non mi ricordo chi è il giocatore dell'entella che arriva come un treno e diciamo in dialetto Ciociaro si incarretta Ciano Sala credo Sala sì il terzino allora guardate qui guardate qua e Ciano che stava colpendo di testa a botta sicura guardate qua boom cioè quello è un tir adesso guardate bene come arriva Ciano sta sulla sua sta sul suo asse sta sulla sua linea quindi non fa cambio di traiettoria il giocatore dell'entella fa 10 metri e va a prendersi in pieno Ciano perché sa che Ciano arriva prima sulla palla e non glielo può permettere ovviamente e prova il tutto per tutto quello quello è il rigore è rosso e quindi il secondo rosso che non è stato dato a Frosinone adesso diciamo forse perché il signor Massimo è venuto a Frosinone in queste condizioni la settimana scorsa a Coverciano c'è stata la riunione tecnica che fanno ogni due settimane tutti gli abiti di A e di B purtroppo il rigore dato da Pezzuto è stato l'esempio lampante di una cosa proprio grave quindi è stato messo in evidenza questo grave errore che poi è una bufala perché è stato anche evidenziato da loro che era difficilissimo per Pezzuto in diretta al momento capire che non c'era stato il contatto fra le ginocchia del giocatore del Pordenone e quella di Nicolò e quindi era facilissimo fischiare il rigore e Pezzuto l'ha fischiato però è stato portato come esempio negativo e secondo me Massimi è venuto con questo condizionamento beh ci può stare voto finale a Massimi ma io gli do quattro grazie salutiamo l'amico Massimi allora noi ci dobbiamo fermare Michela tu ti hai negli messaggi seconda parte ricchissima naturalmente quasi tutta dedicata al nostro Federico Dionisi andiamo anche a conoscere i bambini del gruppo di ripi dell'Accademia Frosinone 2012-2013 sono piccolissimi ma stanno facendo veramente cose straordinarie perché non li vedo e non li sento quindi bravi bambini mini break tra poco la seconda parte di kick off restate con noi ma abbiamo visto che la classifica cambia in fretta la Serie B è così era importante vincere per proseguire il nostro cammino al di là della classifica che sicuramente fa piacere ma le partite sono ancora tante e abbiamo iniziato bene questo 2020 dobbiamo sicuramente proseguire su questa strada con fiducia e con grande determinazione 7 punti in 3 partite in questo girone di ritorno sarà necessario mantenere questo passo cambiare ritmo rispetto all'andata per guadagnare posizioni in classifica è normale sappiamo che l'andata siamo partiti un po' rilento quindi dobbiamo recuperare il terreno e lo stiamo facendo la strada ripeto è ancora lunga lunghissima quindi guardiamo sicuramente al futuro con fiducia ma non abbassiamo la guardia di un centimetro perché chiaramente sarebbe folle eccola qui la clip della nostra Barbara Lanzi interamente dedicata a Federico Dionisi tanti gol tantissime belle immagini ti è piaciuta Fede? Sì, grazie che stagione è per te questa? nel senso quanto è stato importante ritrovare non solo i gol ma anche la giusta continuità fisica credo dopo l'infortunio dello scorso anno dopo il lunghissimo stop quanto è stato importante? Sì, sì diciamo che le ultime due stagioni sia per un verso o poi l'infortunio non sono state esaltanti quindi ci tenevo ci tenevo a tornare ci tenevo a tornare ai miei livelli e credo adesso di stare bene fisicamente e sono contento sono contento di aiutare la squadra di dare il mio contributo importante quindi quando un giocatore si sente bene fisicamente da molto di più sia dentro il campo che fuori hai temuto Federico dopo quell'infortunio nel senso come hai gestito quei momenti soprattutto dopo la notizia magari la prima fase credo sia la più complicata hai temuto di non dico di non farcela però di perdere qualcosina sì sicuramente in quei frangenti fai fatica fai fatica soprattutto perché quando sembra tanto lontano è il momento in cui ristarei bene quindi è stato proprio lì la mia difficoltà poi affrontavamo il campionato di Serie A un momento difficile quando sono rientrato e sicuramente non è stato facile diciamo che è stato tutto così complicato dopo la stagione precedente che comunque per altri problemi non era stato esaltante ritrovarsi in questa prima parte magari a non essere molto brillante ancora a non stare al 100% era quasi un pensiero continuo quello di tornare cioè nella mia testa mi ricontinuavo e mi ripetevo devo tornare devo tornare ad essere il Federico che ero prima per dare il mio contributo quindi ho inseguito ho cercato di lavorare il più possibile per tornare e adesso posso dire sinceramente di sentirmi bene sentirmi bene da diciamo ottobre così sei tornato sei tornato sì ma proprio a livello di gambe sono sensazioni che avevo anche magari quando non facevo gol però già sentivo la gamba che rispondeva nel modo giusto quindi sono contento perché comunque mi sono impegnato tanto per cercare di tornare e adesso raccolgo i frutti insieme ai miei compagni e cerco di dare il contributo perché comunque stiamo inseguendo qualcosa di importante e spero di dare il mio contributo senti Federico abbiamo visto sei anni di immagini praticamente quanto ti ha dato Frosinone in questi sei anni in parte già mi hai risposto definendola una piccola grande famiglia quanto ti ha cresciuto quanto ti ha cambiato anche Frosinone in questi sei anni ma tanto tanto mi ha dato tanto mi ha fatto crescere come uomo soprattutto quindi ho dedicato parte della mia carriera quindi sono soddisfatto di quello che ho fatto abbiamo raggiunto due promozioni quindi è normale che sono molto legato e rimarrò legato per sempre comunque andranno le cose qualsiasi cosa succederà sarà sempre comunque uno stare a casa qua Frosinone quindi credo che delle sensazioni così rimangano indelebili assolutamente senti Fede la Serie A insomma è l'obiettivo vostro l'obiettivo di tutti per te sarebbe la chiusura del cerchio nel senso l'occasione che non è avuto per quell'infortunio che non è avuto lo scorso anno io avrò sempre comunque l'assillo come due anni fa perché purtroppo per un verso o per un altro la passata non l'ho giocata quindi la mia voglia diciamo che è doppia perché comunque voglio tornare in Serie A con questa maglia penso che sia una delle cose più importanti nei miei progetti cercherò e darò il massimo perché questo accada Rolando riagganciarmi al discorso dell'infortunio è lo spirito che poi lui ha trasmesso intanto a me e a tutti la sera prima quando quella maledetta partita lì a Benevento che lui si è fatto male la sera dopo l'abbiamo passata insieme la parte di Ferragosto davanti a Gigi Manzi quando ci siamo incontrati siamo rimasti più di un paio d'orette lì a chiacchierare lui correva presso alla fila e portava questi due cerotti ai lati e lui ho detto ma io siccome ero un po' preoccupato perché l'infortunio era stato brutto poi l'ho visto così ho detto beh quando è uscita la diagnosi io sono rimasto gelato perché ho detto o lui perché non sentivi dolore tu in quel momento sì comunque in quei momenti è talmente tanta la tensione la voglia di non tra virgoletta rendersi a un infortunio che comunque è la forza di portare a fare delle cose anche per noi quello che volevo dire quando poi è uscito il giorno dopo purtroppo la diagnosi drammatica sei mesi fermo io ho ripensato ho detto ma guardate io l'ho visto così è impossibile che un infortunio del genere questo ragazzo lo ferma e infatti ha dovuto faticare tantissimo perché queste sono macchine sono non è solo motore è tutto il resto ossa muscoli devi rimetterti in piedi però questo è il risultato della determinazione come ha detto lui assolutamente mi dicono i ragazzi che abbiamo una telefonata pronto? non è scaletta sì buonasera volevo fare un saluto a Dionisi sono Néstorowski chi? Néstorowski ah volevo fare un saluto a Dionisi ah buonasera buonasera Emiliano già ti ha riconosciuto già ti ha fatto allora a telefono abbiamo l'amico il direttore di Rieti Life Emiliano Grillotti tra l'altro amico di infanzia credo di Federico di Federico Dionisi ciao Emiliano buonasera intanto benvenuto buonasera senti tu che lo conosci da una vita raccontaci qualcosina di Federico dai che tipo è? voglio sapere adesso vi dico tutto vi dico che volete sapere spara vogliamo sapere tutto non esagerare qualcuno si è sbriancato un po' si è messo paura Emiliano tu non puoi vederlo ma ti assicuro che si è messo paura senti tu sei sei il direttore di Rieti Life sei il fotografo ufficiale del Frosinone Calcio hai seguito passo dopo passo la carriera di Federico Dionisi anche con un libro con un libro speciale hai un paio di foto due tre foto che insomma magari sono sono per te le più carine non lo sai hai preparato qualcosina? sì quelle che avete voi sono le foto con lui ho delle foto ricordo ecco in senso metaforico ne ho diverse soprattutto quando quando segna Emiliano noi stiamo vedendo la foto del derby del Francioni finito 0 a 1 guarda caso ha segnato Federico Dionisi e c'è questo abbraccio qui ti ha dedicato il gol praticamente è domani no? la ricorrenza è vero giusto è la ricorrenza c'hai ragione c'hai ragione no non c'ero però non più ok dopo il rigore vittoria a Latina sì è stato bellissimo è un momento indimenticabile inaspettato venivamo tutte e due da un periodo così e così diciamo ecco ho un ricordo bello perché a un certo punto dopo questo abbraccio sotto i tifosi del Latina mi sono girato e ho avuto tutta la Digos intorno a me perché non avevano ben capito credo ti hanno fatto allontanare subito immagino mi hanno protetto era la Digos di Frosilone che saluto ah ok bene bene insomma un'altra foto bella è quella di Ascoli quando Federico segna il gol che poteva significare la Serie A poi insomma sappiamo tutti come è andata a finire Favilli allora vi do questo scoop tanto non lo vedo Dionisi quindi non so che faccia abbia in questo momento però ti sta dicendo Emiliano stai attento la faccia sua incazzata la conosce Emiliano quindi non lo so però vediamo la conosco la conosco no praticamente qualche volta decidiamo insieme un'esultanza ecco e lì fece un'esultanza dicendo ma io dico che è un'espressione che io faccio spesso e poi è venuto verso di me mi ha abbracciato anche in quell'occasione fu fu molto carina come cosa assolutamente la foto è bellissima Federico mi permette poi ce n'è un'altra recentissima di dell'ultima partita posso Fede certo tu vuoi tutto Emiliano a parte scherzi vai vai no praticamente ho fatto un sogno ho fatto un sogno prima della partita gliel'ho raccontato e gli ho detto guarda mi sono sognato che facevi due gol e un gol vittoria e facevi l'esultanza di Mark Bresciano che praticamente faceva la fermo immobile tipo statua esatto ok dico però quando la fai falla vicino a me così io ti faccio una bella foto invece niente no no ci ha provato si vede dalle immagini ci ha provato poi dopo gli altri ragazzi lo hanno abbracciato insomma è venuta fuori un'esultanza molto bella va bene ce la teniamo questa esultanza senti l'ultima foto Emiliano è la foto relativa noi siamo diciamo partner dei calciatori dei calciatori panini abbiamo qui album figurine tutte le settimane abbiamo quindi la foto pochi istanti prima della figurina che voi vedete sull'album perché le foto del Frosinone le ha scattate Emiliano senti che insomma com'è come figurante è complicato com'è insomma un po' complicato no però mi ascolta mi ascolta lì stavo facendo un check sui sacchetti se andavano bene per la foto ok ok comunque al di là delle battute volevo dire una cosa seria anzi due se mi permettete che per me è un onore lavorare con il Frosinone calcio che mi ha dato un'opportunità molto molto grande fin dal primo campionato di Serie A anche fare le figurine per me è stato un onore davvero stare con voi è molto bello e l'altra cosa che pubblicamente non ho mai detto è un ringraziamento a Fede soprattutto di una telefonata che ci ricordiamo io e lui avvenuta quando lui era in Canada e quella telefonata lì ha un valore inestimabile per noi e per me in particolare Emiliano grazie grazie e vieni a trovarci appena puoi va bene mi farebbe molto piacere vieni volevo fare gli auguri in diretta a Emiliano che comunque Rieti Life ha fatto dieci anni quindi auguri auguri Emiliano tanti auguri tanti auguri altri cento di questi anni tanti auguri e continua a seguire naturalmente Federico continua sì 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 grazie grazie Emiliano un grande abbraccio grazie un saluto a tutti grazie 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 Emiliano Emiliano Grilotti tra l'altro quando state parlando di questo sogno ero lì però capivo sinceramente poco prima della partita quindi ho detto vabbè noi diciamo di fregnarci tra virgolette ne diciamo tante siamo molti amici quindi è normale che c'è una bella complicità tra voi sì sì sono anni che comunque ci conosciamo abbiamo fatto un libro insieme l'anno della serie A abbiamo fatto varie iniziative insieme abbiamo un bel rapporto che ci lega non solo a livello lavorativo anche extra calcistico tra l'altro io adesso non mi ricordo qual era la squadra ma io facendo sempre la raccolta e tutti i giornali lui quando ha iniziato a essere un personaggio era giovanissimo in che squadra giocavi dell'Interlander umano? Monterodondo io me lo ricordo perché Ferentino Monterodondo 1-5 doppietta di Dionisi vero? lo esaltavano Ferentino storico dove c'era Monaco e qualche anno fa è giocato con il figlio quindi ho battuto il record con il litigato sia padre che figlio è infatti è uno strano che lì si è fatto tutta la famiglia a Monaco l'ho fatta bene bene tutta la famiglia l'hai fatta aspetta Emiliano il microfono eh sì scusami Gerardo microfono posso come no vai vai io avrei 100 domande da fare perché un campione guarda fino a 50 55 mi ricordo la tua partita la prima partita a Frosinone Serenitano a Frosinone io gli ho detto quando mi piacerebbe averlo a Frosinone eh sì maglia numero 8 mi ricordo bene a Livorno no a Serenitano con Livorno con Livorno comunque Livorno aveva la 8 sì sì vabbè il colore era quello dai perdoniamolo però vabbè poi un'altra cosa che dico a nome di tutti i tifosi perché lui per noi è un campione io ti ho detto poco poche settimane fa per me è il Braving Moic quindi sappiamo che è un grande giocatore ha il suo carattere come tutti i tuoi colleghi quindi io me lo tengo stretto nel Frosinone perché ce lo inviano tanti altri tifosi quindi complimenti per la tua carriera il gol più bello per me di Federico è con il Crotone io ancora ho i primi di Gerardo io lo dico sempre perché non fa rimbalzare la palla è a porta vuota però la palla non rimbalza e lui tira al volo perché si fida poi è riconvinto che è sbagliato lo puoi dire apertamente che è riconvintissimo che è sbagliato sono 10.000 persone così e tu tiri al volo cioè mettila butti fuori che succede? mettiamo un po' di emozione nella situazione facile porta vuota non la fa rimbalzare Federico va bene te l'ho perdonato in queste 6 stagioni di Prusinone hai avuto 4 allenatori 3 hanno preso panchina nelle ultime giornate per te chi è stato il migliore che ti ha insegnato qualcosa? abbiamo avuto allenatori bravi qualcuno a modo suo comunque ci ha lasciato qualcosa sicuramente quella di Stellone rimarrà comunque penso nei ricordi di tutti perché era più inaspettata un altro allenatore che ricordo con molto affetto sicuramente è Marino perché comunque ho fatto una delle mie migliori stagioni quindi anche gli altri grandi partite anche con Marino belle partite sì secondo me abbiamo avuto un pizzico di sfortuna magari potremmo sfruttare meglio le partite dopo la partita con la spalla quindi c'è stato anche un demerito nostro però diciamo che questi due sono gli allenatori che ricordo con maggiore affetto poi l'ultima domanda non mi voglia qualcosa tuo fratello ma quando ti ha detto vado a Latina tu che gli hai detto? tra l'altro sta andando forte tuo fratello sì mio fratello diciamo che si è elevato le sue soddisfazioni non ha giocato a grandi livelli però diciamo che ha vinto 5 campionati serie D ha fatto più di qualche anno di C magari vince pure il sesto quest'anno è dura è capitato in un girone abbastanza complicato il girone del Palermo indossa la maglia del Savoia che è seconda a meno 5 a meno 5 dal Palermo io vedo tutte le partite io sì grazie un bocca al lupo anche a tu fratello volevo chiedere a Federico una cosa prego le domande delle donne Federico volevo sapere perché hai cambiato il numero della maglia guarda io quest'anno ho cambiato esultanza ho cambiato numero di maglia per dare un po' di brio sono 6 anni che sto frosinone e comunque dare un pizzico anche a livello un gioco di novità di novità era stimolante anche un 1% di stimolo era anche quello e comunque penso che poi nel calcio dobbiamo sempre ricordarci che comunque è un gioco e lo affrontiamo nel migliore dei modi eravamo abituati sempre a questo 18 infatti io sarò sempre legato alla mia esultanza sarò sempre legato al mio numero perché comunque il numero 18 sarà un ricordo bellissimo che mi porterò dentro per tutta la vita però che significa vedere quello cioè nel senso agli ordini un giorno va bene un giorno ce lo spiegherai va bene è sicuramente un gesto che ho cambiato per una persona a cui voglio molto bene che tengo molto quindi va bene e ci fa piacere abbiamo visto tantissime immagini nella nostra clip però una non l'abbiamo messa di proposito è una scena che però ha fatto impazzire tutti i tifosi del frosinone la possiamo vedere relativa allo scambio dei cagliardetti di frosinone palermo questa scena fa impazzire più di ogni gollo ogni tifoso del frosinone ce la racconti Federico ma che significa nel senso stavi già giocando nella tua testa questa finale già dal tunnel noi per la partita l'abbiamo iniziato a giocare alla fine di palermo dopo la sua intervista penso che abbia dato una scossa una carica all'intero gruppo io mi ricordo gente come Adriano Russo faccio un esempio perché lui non scriveva mai sul sul whatsapp della squadra era uno dei più timidi a scrivere invece dopo la partita era uno dei più è partito eh ma non perché perché comunque ci sentivamo toccati nell'orgoglio se tu tocchi nell'orgoglio il frosinone poi rischi che anche se magari a livello di qualità puoi essere superiore magari rischi anche di perdere una finale come quello che è successo come andato e qui un po' gli hai voluto far capire il clima che tirava sì c'era stato già un episodio sotto lo spogliatoio con al momento della consegna della coppa la coppa consegnata direttamente dentro lo stadio non dentro lo stadio ci sono state delle cose che comunque avevano già acceso il match all'inizio della partita in quel momento io dovevo semplicemente scambiare il cagliardetto lui non si girava aveva un'aria di troppo di superba quindi andava rimesso un po' al posto suo poi ci ha pensato subito Cranic dopo 3-4 minuti gli ha dato una sportellata paurosa è vero però diciamo che rimane anche se non è un bellissimo gesto da vedere rimane comunque una cosa che porterò dentro simpatica questa è storia sicuramente tranquillo vai Marcello voglio fare una domanda a Federico vai quando hai saputo l'addio di Ciofari ti è toccata un po' questa cosa? sicuramente sicuramente noi l'abbiamo vissuta in camera insieme quindi diciamo che si viveva quotidianamente non ti nascondo il fatto che magari c'era del nervosismo ma del nervosismo nel senso buono io e Daniel abbiamo giocato insieme praticamente per la prima volta all'incirca quasi dieci anni fa ci siamo ritrovati poi dopo a distanza di anni abbiamo giocato cinque anni insieme comunque sia per me era una parte importante perché comunque è quello sguardo che cerchi negli spogliatoi è quell'appoggio che comunque ti sostieni di compagno di reparto quindi comunque sia c'era quel rapporto che andava oltre un semplice compagno di squadra è quel rapporto che ti costruisci negli anni e quindi sicuramente l'abbiamo vissuta in maniera molto particolare poi Daniel ha fatto le sue scelte vanno rispettate lui quello che voglio e ci tengo a dire è che gli è dispiaciuto molto andare via da Frosinone è sempre legato a Frosinone cioè lui al di là del fatto delle scelte che poi uno può fare a livello calcistico a livello umano comunque è rimasto e rimarrà sempre legato è un po' il discorso che facevo personalmente prima per me Daniel è comunque uno che ci mette il cuore ci mette la faccia e il cuore sempre quindi credo che Frosinone ha dato tanto a lui ma lui ha dato anche tanto a Frosinone è questo il discorso che io ho fatto prima che Frosinone fra tante squadre importanti è quella che aveva un nucleo storico al suo interno che era una roccia mi riferivo anche ai rapporti personali io lo sapevo lo so che c'era grande amicizia fra di loro e quando io ho fatto i complimenti a chi si sa inserire bene in questo gruppo è perché sa calarsi subito nel suo ruolo e deve essere accettato è vero è vero allora caro Federico noi siamo una trasmissione stracompleta quindi facciamo le sorprese al telefono abbiamo la moviola le pagella abbiamo il super bomber del Frosinone abbiamo Michela abbiamo anche la poesia per il nostro ospite perché abbiamo anche un poeta in studio Federico noi abbiamo tutto 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 prego buonasera buonasera a tutti facciamo la presentazione ufficiale io scrivo per il Frosinone calcio per hobby ok ho scritto la poesia al mister l'ho scritta nei tempi di Marino ok si ricordi? si si il gladiatore questa è per stai leggendo la poesia per Federico no no sto parlando con Federico vabbè tranquillo sicuro ecco niente lui giocava era un gladiatore che dentro il campo era tutto di più ok e allora mi è venuto dentro di scriverci questa poesia poi gliela ha data il mio amico Daniel posso cominciare? prego prego sempre rivolto lì ok perfetto vai è intitolata il gladiatore lui è un gladiatore in campo combatte con onore grinta caparbiata e attaccamento queste cose lui gliela ha dentro concludente e dirompente non si ferma davanti a niente con la palla è molto capace e in aria attacca come un rapace beve 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 col suo gesto saziante di Gloria disse tante la sua voglia bravura e realtà ci fa fare un pensiero un'altra volta in serie A Federico è uno dei nostri è una certezza come in cielo gli astri grazie gladiatore sanque arena e onore bravo bravissimo 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 grazie allora questa questa gliela consegniamo a Federico no no questa qua volevo farla attaccare a Cantalice a Federico alla bacheca di Cantalice grazie grazie mille e questo è tutto in lei il mio vicino la raccolta grazie mille allora mi passate un microfono ai bambini Mario gestiscimi tu la situazione perché voglio voglio andare anche un po' dai bambini Mario questo è il gruppo 2012-2013 allora bambini sapete già come funziona nome e cognome allora buonasera voglio fare una precisazione prego prego il gruppo diciamo è composto anche da quelli un po' più grandi del 2010 del 2011 ok e siamo del gruppo di Ribi lui accanto a me in braccio a me è la mascotte del gruppo ok perché è quello più piccolino e e ci rende gli allenamenti più gioiosi bene bene più belli ecco allora dai buonasera a tutti mi chiamo Cristia Lecine e ho quattro anni bene quattro anni potenziale campione eh bene quattro anni bravo 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 vai passiamo il microfono tutti i nomi e cognome e ruolo forza vai in piedi scusate un attimo volevo solo dire che il Cosenza sta vincendo a Pescara mazzo incitti Matteo ruolo attaccante bravissimo vai alzate un po' la voce eh vai Alessandro Nobili ruolo attaccante bravo vai Ferrara Stefano ruolo difensore ok Pier Giorgio Fiori ruolo attaccante vai Grande Francesco ruolo attaccante ok Filippo Diana portiere vai Samuel Venditti ruolo difensore ok Riccardo Patrizio portiere ok Leonardo Patrizio attaccante Villa Alexander centrocampista vai Marco Fred Arcangelo esterno sinistro ok Thomas Salvini alla destra ok vai Matteo Giuliani attaccante vai Mattia Feoli attaccante in piedi in piedi se non mi vedeva l'ultimo vai Sto basso Cerfidi attaccante ok vai Samuel Maiolo attaccante ok squadra iperoffensiva Marco Junior Paniccia attaccante attaccante vai giusto Pier Giorgio Sandopadre difensore difensore giocata solo poverino però scusate aspettate aspettate facciamoli finire vai Andrea Gabogna difensore ok vedi arrivano i difensori piano piano Julian Puzio portiera 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 ci mancava allora stavo dicendo questa è una squadra brasiliana perché voi dovete sapere che in Brasile adesso non più perché ma fino a qualche decennio fa non avevano i portieri perché nei settori giovanili nessuno voleva giocare il portiere vogliamo far regalare possiamo Mario possiamo procedere con la consegna delle figurine possiamo ah già fatto allora facciamoli le scartare potete già attaccare le scartare potete fare ci hanno fatto tutto Rolando le avete scartate le hanno scartate allora aspetta mi dà un attimo il microfono Danilo voglio anche salutare Martina e Rachele che sono due tifosi del Frosinone e due grandi grandi ammiratrici di Federico Dionisi ciao Martina e ciao Rachele chi è? Martina e Rachele ok perfetto due tifosi del Frosinone no? ok benissimo benissimo le inquadrate grazie grazie Barbara allora in chiusura manca ancora qualche minuto quanti colli hai fatto con la maglia del Frosinone Federico? questo bisogna chiederlo a Daniel era sopra informato sei un attaccante atipico tu perché non sei lì che sai tutte le infatti cinquantotto cinquantotto bravo cinquantotto lo sai che però ancora ne devi fare tanti per arrivare lì lo so il bomber è stato distante lo sai allora abbiamo la classifica stasera abbiamo un centocinquanta coll credo sul nostro pacco Rolando solo tu sei rimasto a secco in questa coppia abbiamo la classifica dei top bomber della storia del Frosinone comanda Daniel Ciofani 76 gol più 3 su Paulino Santarelli Federico Dionisi a 58 ma vedete che sta guardando i prossimi obiettivi perché Paolone c'ha sempre una storia con un gol è giusto questo? 73? è giusto vedi è giusto bravo Paolo bravo Paolo se me ne vanno uno a San Buquale però io rivendico soltanto una cosa che ho fatto meno partite di lui va bene questo sì hai fatto media gol la media gol forse ce l'è più alta senti se Paolo sei preoccupato che Dionisi ti può arrivare no guarda Dionisi ha giocato con mio figlio con la Lutigiani per cui è un amico allora può può passare può passare ti mancano ti mancano aiutate 15 gol ok 15 gol per arrivare ci vuole parecchio Federico senti senti sei a 93 però in Serie B a quota 100 ci hai pensato magari una festa prima arriviamoci poi quando stiamo a 99 ci mettiamo d'accordo se fai la festa facci sapere come no tutti invitati no perché garantisci promesso tutti invitati la faccio aperta a tutti bravo no anche perché ti garantisci almeno il sei politico di Rolando se non la prima partita che sbagli prendi 4 o 5 è giusto così quando sbaglio mi allora un po' di messaggi Michela perdona mi sono tantissimi vi ho trascurato si guarda poi ti lascio tutto il computer ti legge a casa allora c'è Angelo che dice vorrei sapere il motivo per le mancate aperture verso Beghetto perché non lo servono mai una parola vabbè complicato questo ma io personalmente la squadra un po' tutti no non lo so diciamo che facciamo prepariamo la partita in determinate maniera quindi magari qualche volta non gli si dà ma penso che in linea di massima gioca molti palloni non a caso prende sempre il voto vai vai Michela un saluto a tutti in particolare ai due bomber avanti così forza Frosinone Luigi quando c'è fede segna di unisi indispensabile come sempre è vero goleador e poi ancora Ilaria dice complimenti Federico per il tuo gol e vuole essere salutata Ilaria ciao Ilaria poi Lorenzo Federico sei un grande poi messaggi sotto la nostra diretta a non finire me li leggo qualcuno se facciamo in tempo Angelo Federico non si discute si ama appunto e basta grande leader giallo-azzurro e poi così senza fine messaggi senza fine per te tantissimi messaggi vi ringraziamo grazie per i tantissimi messaggi che sono arrivati se li merita tutti è vero è vero dai se li merita tutti senti Federico battuta sul Venezia campaccio quello sì sì lo conosciamo è un campo molto difficile è una squadra comunque dura da affrontare quindi sappiamo che sarà una partita dura e ci faremo trovare pronti sicuramente senti obiettivo secondo posto l'hai detto più volte non ci nascondiamo quale squadra temi in questa corsa considerando se vuoi considerarle Benevento già andata io ripeto Benevento la considero comunque già andata perché comunque il vantaggio che ha preso è un vantaggio importante non possiamo far finta di nulla poi per il resto credo che noi dobbiamo preoccuparci di noi stessi non degli altri sicuramente dobbiamo avere il rispetto di tutti questo sì Hai fatto qualche patto particolare se vado in Serie A faccio questo perché una volta ti sei fatto biondo mi ricordo male male biondo Vabbè ma si fanno ma si fanno si fanno all'interno di uno spogliatoio quindi queste sono cose belle quindi sì se uno va in Serie A credo che sia disposto a far questo lo sai io scherzo ma insomma ti ammiro tantissimo allora siamo vai Michela l'ultimo messaggio di Lorenzo che dice un grande saluto ai presidenti Marcello e Gerardo dagli amici del Zebretta di San Daniele del Friuli ah bene ci guardano anche da Udine quindi siamo siamo belli lontani tra l'altro Gerardo Marcello tutti gli amici stanno già organizzando la trasferta per sabato bella spacchinata però bene segnale che c'è entusiasmo furgoni sono già pieni quindi tutti tutti pronti a Venezia allora noi siamo in chiusura Federico grazie grazie a voi grazie di cuore torno a trovarci e soprattutto forza 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 perché hai dietro un bel popolo che ti spinge sì siamo contenti di aver creato ricreato l'entusiasmo giusto che merita il Frosinone quindi siamo contenti di questo e speriamo di andare avanti tutti insieme e raggiungere l'obiettivo grazie grazie a Federico Dionisi grazie a Rolando Mignini grazie a Rolando ci vediamo lunedì prossimo Paolo grazie grazie a voi quindi se ti sorpassa Federico non ti arrabbi siamo tranquilli ok grazie grazie a Paolo Santarelli grazie al nostro pubblico che è qui in studio grazie al nostro pubblico che è nei piccoli dei nostri dei nostri studio è caduto anche il microfono eccolo qui quindi grazie veramente a tutti Michela grazie anche a te grazie a voi Replica di Kickoff vi ricordo questa notte è a mezzanotte e 45 domani viene anticipata la replica quindi alle 10.45 per dare spazio alla diretta da Sanremo e domani ore 19 l'appuntamento con B-Movie assolutamente grazie grazie e buonanotte